Allora direttore, arrivederci. Buona serata. Silvano, gli avevo chiesto di preparare il bilancio trimestrale, di metterlo sulla mia scrivania entro stasera. Silvano, direttore, e che non l'hanno fatto in me? Perché doveva battere il record dell'ora sulla Ciclette, forse? Silvano, se entro domani mattina e non vedrò quel bilancio sulla mia scrivania, potrà anche iscriversi alle Olimpiadi di Ciclette. Tanto avrà tutto il tempo per alledarsi. A casa sua! Cretino! Silvano, ho bisogno di te. Sì, prima devo finire il bilancio per Demarino. No, devi farmi un caffè, subito. Ah, forza. Bene, scusate. Ah, è subito. Sì, sì. Ecco qua. Ok. Bravo, Silvano. Questo me lo bevo subito, ma tu continua. Ma come? Devo riempire questo. Ma scusate, rituro al termos, non fai bere solo un caffè. Potrei. Se non dovessi guidare tutta la notte per accompagnare il Presidente a Pescara, abbiamo solo tre minuti. Forza. Sì, scusate. Così? Ecco qua. Motivazione, Silvano! Devi farci, ma Silvano! Sei un vero, Silvano, Silvano! È delicato, Silvano. La tua carriera è già finita. Ah, ah, ah!